Jordan Barrett, l'incredibile scoperta, ecco chi è, suo padre. Jordan Barrett è un modello di 20 anni che soprattutto nell'ultimo periodo, sta riscuotendo un grandissimo successo. Infatti, è stato eletto come modello dell'anno ed in tanti ritengono che sia uno dei ragazzi più belli del mondo. Originario di Byron Bay in Australia, Barrett sta ottenendo molti consensi, tra le passerelle di tutto il mondo. Gli occhi chiari e i capelli biondi hanno conquistato le sue fan, e li hanno fatto ottenere il soprannome di «giovane Leonardo DiCaprio». Jordan Barrett però è apparso sempre modesto, e ha dichiarato che tutto questo non è merito suo, ma dei suoi geni e di madre natura. Per quanto riguarda la sua carriera, tutto è iniziato soltanto grazie ad un colpo di fortuna, come lui stesso ha raccontato. All'epoca aveva meno di 18 anni e fumava, ma la vendita degli accendini era vietata ai minorenni. Quindi, il ragazzo stava provando a rubarlo da un negozio, quando una persona l'ha fermato ed ha iniziato a fargli molte domande. Come lui stesso ha raccontato, Jordan si è convinto che fosse una persona della sicurezza, che si era accorta dei suoi movimenti. In realtà, era un talent scout che lo aveva già notato per la sua bellezza, e che gli ha proposto di riniziare la sua carriera di modello. Jordan Barrett, il passato difficile del famoso modello Jordan Barrett, però, nasconde un segreto che non tutti conoscono. Ha a che fare con il suo passato, che è stato particolarmente burrascoso, per via della sua famiglia d'origine. Infatti in pochi sanno chi sia suo padre e lui stesso, cerca di evitare l'argomento quando può. Ebbene, suo padre Adrian è un trafficante di sostanze stupefacenti, ed è stato arrestato nel 2013 proprio con l'accusa, di essere a capo di un cartello di narcotrafficanti. Un episodio che non è stato affatto facile da gestire, né per Jordan né per la sua famiglia. Gli affari dell'uomo ammontavano a milioni di euro, tanto che al momento dell'arresto, è stato trovato in possesso di una cifra pari a 9 milioni. Successivamente è stata arrestata e poi ritenuta colpevole, anche la matrigna di Jordan. I due sono stati condannati ad otto anni di carcere, che ad oggi stanno ancora scontando. Secondo quanto trapelato, in seguito all'accaduto, Jordan ha voluto interrompere ogni rapporto con la sua famiglia, con cui ancora oggi non parla. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate il modello più bello del mondo, e che idee avete sulla sua storia? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.